Primo spettacolo Signor, ho letto un anno e mezzo fa, due anni fa e credo che questo mi sia servito a vedere altre cose nel libro rispetto a quello che normalmente uno può vederci quando ha vent'anni dell'età in cui di solito si legge perché il libro ha una profondità è una narrazione anche esistenziale è la storia di una fuga, sì, di una corsa attraverso l'America dove si incontrano musica, sesso, droga tutto quello che è il corredo dell'età giovanili ma a letto con la maturità di uno come me che ha 61 anni oggi uno ci trova invece proprio la ricerca del padre intanto il protagonista, l'alibi per tutta questa fuga è la ricerca di un padre che è sparito quando questo ragazzino era ancora piccolissimo e questo è molto più importante forse letteralmente questo ci ho trovato, questo me l'ha fatto piacere a parte il fatto che è un libro scritto benissimo, assolutamente quindi le letture di De Gregori da giovane non erano on the road? ma no, erano abbastanza on the road ma questo qui stranamente lo avevo comprato e poi l'avevo messo da parte avevo cominciato a leggerlo come spesso accade? sì, poi mi ero stufato, si vede, avevo passato altre cose e ci sono altre letture fondamentali che ho mancato una, Siddhartha per esempio, non l'ho mai letto anche quello sembra essere un po' obbligatorio stai rimandando sempre ma forse, chissà, nemmeno Guerra e Pace ho letto però è vero, questi obbligatori per la gioventù tra virgolette, il giovane Holden Siddhartha, on the road e qualcun altro il giovane Holden l'ho letto e poi l'ho riletto e lo rileggerò ancora un altro di quei libri che ha diversi piani di lettura a seconda o meno del modo con il quale ci si avvicina sì, come tutti i bei libri diciamo, anche la Divina Commedia insomma, un conto è leggerla a scuola quando te la fanno leggere quasi obbligatoriamente poi mi è capitato di rileggerla o i Promessi Sposi però mi pare di aver sentito che un altro riferimento letterario era La strada di Cormac McCarthy sì, sì quando, insomma, aveva scelta del titolo forse però è il libro di Cormac McCarthy che mi è piaciuto di meno io ho letto quasi tutto di Cormac McCarthy e La strada, insomma, l'ho trovato un po' così libro inquietante, innanzitutto sì, sì, ma anche forse è facile poi da lì hanno fatto un brutto film secondo me sì, è vero su questo siamo d'accordo ma come diceva Massimo Troisi purtroppo sono in tanti a scrivere libri io a leggere sono da solo e non riuscirò a me a leggere tutto quello che viene scritto e quindi alla fine bisogna fare delle scelte ma l'importante è leggere bene non è leggere tanto è leggere bene è farsi piacere le cose che uno legge anche nella musica e avere anche il coraggio di lasciare un libro a metà se non ti piace magari riprenderlo dopo vent'anni come è successo a me sulla strada però al di là dei riferimenti letterari sulla strada è un termine cioè è un'espressione che va a pennello per la vita di un musicista più che uno scrittore che sulla strada ci sta di meno di un musicista sì, beh ci sono vari modi di stare sulla strada il musicista ci sta anche fisicamente perché chi fa le serate va sempre avanti e indietro io domani vado a Bari per dire non è andare chissà dove non è come andare in California da Los Angeles però insomma è stare sulla strada ma poi soprattutto c'è un modo non fisico di stare sulla strada ma è un modo appunto esistenziale la strada è anche la nostra vita insomma si può stare sulla strada anche senza muoversi molto e il titolo del mio disco allude a questo insomma a un viaggio che è un pellegrinaggio attraverso la vita attraverso le età attraverso non solo i luoghi ma anche le persone i sentimenti il tempo c'è anche una strada nel tempo il disco parla anche di questo che è un po' che è un po' Grazie.